Dai ragazzi, allora, benvenute, oggi si inizia, dai, su come ti chiami? Bene, non me ne frega un cazzo, dai, allora, vai, prima litigiamo gli spiriti che non vogliono uscire, vai dai, via la nutella, via le proteine, vai, dai, su un po' la pistola, dai, che la pistola ci piace, puoi rimanere la cazzo, ora prendiamo aria, intanto moviamoci con il tempo, zamba, 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 vai insieme ragazzi, zamba, dai, ora si inizia, iniziamo, mutiamo le gambe, prima a te, poi le gambe, se fate queste cazzo, dai, vai, vai il po' lei, dai, dai Ercolino, Ercolino, Ercolina, c'è la tour, Ercolino a chiara, dai, succe, si odi, ora, vengo lo stesso, e sub imal�ietro, se voglio associations l'acqua, mi seguenti, filigoleo, era il sinistro, hai cominciato col sinistro, scende, e non fa niente, scende stale, e non fa male, vüherve come lo volete, dai, maugeratura, continua, continui, mi piace un po' io l'ho creato un scienze un altro scienze fate questo scienze i vostri morosi mi ringrazio Alice Alice per favore la soda questa notte ti ho sentito un po' fiato adesso hanno già stato il KO dai Alice dai ragazzo su ora dai su queste mani che fai? ti stai scattando le ricotte dai alzai i mani ora ci vuole i piegamenti adesso diamo anche i guattricipiti che servono le lette così scienze vai così prendono le mani anche le ascelle Giulia dai 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 ragazze dai tutti insieme dai che tutta spetta si sguarda per uscire una figura di merda dai su e intanto via gli spiri di manini spiro via gli spiri di manini via la nutella dai dai dite come si io posso si io posso si io posso si io posso che figura di merda come i vostri mori li già vi tramano dai dai che c'è un latino americano sulla piazza no 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 zitta è bello non lo ricantiamo il sale scende e non fa mai dai se scende il sale e non fa mai e come lo volete voi salite sempre anche voi da sogniamo i grudi si sentite più duri io cercerò più duro dai ragazzi dai 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 cosa non fa mai dico è di dai 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 Che fai quella gamba? Hai fatto una piacca? Maria, te ti sei fermata la seconda. Tu manco la prima. Continua, la sola. Tu, Giulia, tieni su un palito, tieni su un palito. Butta fuori, butta fuori la Nutella, butta fuori la Nutella, via Nutella. Te credo? Sì, io posso, ragazzi. Esatto, guarda un po'. Sì, io posso. Siamo malate. Siamo malate. Finì, devi parlare più forte, però. Eh? Devi parlare più forte. Eh? La testa è un po' più da l'ossu. Eh? Dai, sentite, andate già, mi voglio sentire la musica dentro di voi. E che cosa fai? Se scende il sale? E come lo volete? No! Vabbè. Ragazzi, ragazzi, ora, di nuovo vi è lì, ma dimmi che senza donstarci in voi. Ragazzi, se mi avessero detto questo, non sarebbe finita così. Ti avrei detto no. Fuori, 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 fuori. Hai visto? Ho trovato nella sposa, Pio? Come si chiama? Come si chiama? Che cosa? Come si fa una palotta assoluta per fare nella sposa? È la slinitzen. È la slinitzen? È la slinitzen? No, non è la slinitzen. Sì, è la slinitzen. No, che ho trovato nella sposa, no? Che cazzo? L'hai visto? Ho trovato nella sposa? No, non ho visto. Che c'è il focino che gli prepara tutto il matrimonio? Vabbè, Fili? Che ci chiama a fondo? Con 5 minuti e mezzo. Ooooooh! Ci vediamo domani. E come lo volete? Nooooh!